cari amici tanti saluti da serafino massoni e vi parlo da radio libera una bella piccola emittente di oklahoma city oklahoma city e in anteprima io qua da radio libera di oklahoma city e vi posso rivelare in anticipo l'orribile verità sugli alieni perché 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 in tutto il mondo le televisioni non fanno altro che parlare degli alieni e alcuni miei amici che si trovano in italia mi hanno detto che presto le televisioni italiane ricominciano a trasmettere dei programmi televisivi sugli alieni sui cerchi sui cerchi sui cerchi nei campi di grano e vabbè ma ormai qua noi a radio libera di oklahoma city abbiamo saputo la verità perché erano anni che noi raccoglievamo in silenzio in silenzio le prove della questione che riguarda gli alieni e qua abbiamo ormai ormai siamo pronti per questo è diciamo un explo a un explo a è uno scu mai stato fatto uno scoop come questo ma neanche quando la nasa ha mandato gli americani sulla luna ma neanche allora neanche allora ci fu uno scoop come questo questo vero scoop televisivo e no radiofonico 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 anche televisivo perché con i miracoli della scienza della tecnica si può fare tutto oggi allora vediamo un po vediamo un po qual è la documentazione che ha raccolto radio libera di oklahoma city è sterminata vi leggo soltanto alcuni episodi che adesso li diramiamo alla pubblica opinione poi verranno portati alla conoscenza dell'autorità giudiziaria ma prima è bene che queste cose vengano sapute dalla pubblica opinione e mi auguro che benché benché radio libera di oklahoma city parli in inglese quasi parla in inglese e mi auguro che gli amici di che abbiamo in italia possano avere a venire a conoscenza di questa trasmissione radio radio videofonica come volete come meglio preferite va bene allora vediamo un po allora se tanto discusso su questa faccenda degli alieni che appaiono scompaiono ci sono non ci sono dice ma se ci sono perché non si fanno vedere e lì discussioni all'infinito discussioni all'infinito per giustificare che non si fanno vedere hanno detto che sono molto sensibili che hanno paura di sfasciare le nostre organizzazioni sociali e noi abbiamo le vostre le nostre consuetudini secolari o millenari hanno paura sono sensibili delicati altri hanno detto che magari hanno paura di noi insomma le hanno trovate tutte le giustificazioni per cercare di far capire il motivo per cui gli extraterrestri gli alieni che so i rettiliani non prendono contatto con noi cioè non scendono non costruiscono delle ambasciate degli edifici delle ambasciate dei consolati tutto 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 ne hanno inventate di tutti i colori pur di dimostrare che gli alieni esistono hanno tirato fuori tutte le motivazioni delle scusanti del mondo dice che sono delicati sono sensibili hanno parlura di turbare i nostri equilibri psicologici l'umanità potrebbe impazzire ma poi ci dice pure alcuni giornalisti alcuni grandi scrittori hanno detto che potrebbero anche avere paura di noi potrebbero avere paura di noi capito e così però nessuno ha potuto raccogliere la documentazione che abbiamo raccolto noi qua di Radio Libera a Oklahoma City capito e allora qual è che dice allora i nostri reporter e fotoreporter che abbiamo abbiamo lanciato un po' in tutti gli states hanno racconto documentazione eccezionale e vi racconto per esempio il primo caso il caso di Mary Mary una simpatica una simpatica fanciulla della California Mary una simpatica fanciulla della California la quale una mattina si era regata alla fonte si era regata la fonte per lavare i panni per lavare i panni e mettendosi sulla riva del fiume a lavare i panni Mary Mary e si era messa e voi capite in quale posizione no voi capite in quale posizione si era messa Mary 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 e sembrava che questa Mary ci avesse la minigonna e siccome era d'estate non c'era neanche le mutandine e in pratica mettendoci in quella famosa posizione la che voi capite qual è per lavare i panni alla sulla riva dell'uccello del fiume in California e lei lava i panni e sente un rumore dietro di sé sente un rumore dietro di sé e e allora si gira lentamente ma c'era una siepe dietro dice dietro Mary dietro Mary c'era una siepe e lei lei va dietro la siepe se l'ha portata presso i panni eh i panni bagnati e la alza i panni e li sbatta sulla siepe e sente un urlo terribile sento un urlo e vede un mostricino un mostricino tutto verde che si mette a strillare e che scappa via si infratta in un boschetto questo mostricino e poi si si vede un gran lampo e un'astronave scappa via e Mary va a spoggere denuncia alla locale stazione della scendarmeria di stato dei carabinieri e appunto e questo resta scritto non l'hanno presa non l'hanno presa come vera la storia di Mary soltanto che dobbiamo metterla insieme a tante altre storie allora sentiamo quest'altra denuncia i giovani coniugi Billy e Vanna che se stavano una bella casetta nel Maryland una bella casettina fatta di legno in mezzo a una betaglia una betaglia una bella casetta fatta di legno e loro carini stavano stavano facendo l'amore in camera da letto ed erano nudi nudi e era giorno era giorno e ci avevano le finestre chiusi perché faceva freddo faceva freddo le finestre chiuse i vetri aperti cioè le anti aperti e fanno l'amore e finché stavano in una posizione i loro occhi non erano andati a guardare la finestra quando cambiano posizione si mettono in una posizione in cui lei 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 può vedere cosa c'è là fuori dalla finestra e poi dalla finestra ci stanno due occhioni così due occhioni così fosforescenti che stanno a guardare loro due che fanno l'amore allora lei glielo dice al marito guarda un po' chi c'è là è il marito salta giù dal letto apre la finestra e intanto c'era un mostricino verde che se l'ha messo a scappare e il marito gli corre appresso questo si infratta in un cespuglio si vede una grande luce e questo mostricino verde parisce in un'astronave che rapidamente raggiunge l'infinito vanno tutti e due a sporgere le luce alla locale stazione dei carabinieri della gendarmeria e pure lì restano perplessi perché loro ancora non sapevano di quello che era successo la america california che era andata a lavare i panni sulla riva del fiume lì in quella posizione in minigonna senza le mutandine e capite che c'era là quel mostricino verde dietro la siepi che la guardava è mancato il contatto capito è mancato il contatto tra le due centarmerie ma noi no noi raccoglievamo le notizie noi qua di radio libera dell'oklahoma city e poi è un altro fatto è successo a un bambino un bambino una città dell'ohio dell'ohio un bambino di una bella ridente località dell'ohio era andato a trovare la nonna era andato a trovare la nonna e nel bosco nel bosco a un certo punto il bambino era già vicino alla casetta della nonna e si vede avvicinare avvicinare da da un coso da un mostriciatolo verde un mostriciatolo verde che 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 lo va a toccare dove nessuno dovrebbe toccare i bambini e a questo punto il bambino dice nonna nonna e la nonna quando sente il bambino che era il nipotino che la chiama esce esce dalla casetta di legno con un bastone corre lì dove sta il nipotino con questo mostriciatolo verde che gli stava cercando di toccare il cosino e il mostriciatolo verde scappa via si infrata nei cespugli poi si vede la grande luce e via questo qua che sparisce dall'infinito e tre perché poi la nonnina con il nipotino sono andati alla locale stazione carabinieri la locale gendarmeria hanno fatto l'esposto e tre esposti ma è ancora non non facevano i collegamenti capito non facevano i collegamenti poi capita un altro episodio capita ancora un altro episodio perché non finisce mai non finisce sta storia che abbiamo noi 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 giornalisti di radio libera di Oklahoma City e non finisce mai noi abbiamo fatto un raccordo voi questa volta la faccenda è successa alla White House alla Casa Bianca alla Casa Bianca alla Casa Bianca pensate voi che roba alla Casa Bianca ne succedono di tutti i colori non mica soltanto quello che è successo con Monica le whisky che pure lì c'era di mezzo lo sperma no no ne succedono ne succedono e lì c'era una cameriera una cameriera che si era una cameriera a White House Casa Bianca una bella cameriera di colore che si era messa in un ripostiglio con un bel cameriere di colore e li stavano facendo delle cose brutte assai va bene e fatto sta che però in questo ripostiglio c'era una vetrata una vetrata e si poteva vedere quello che si faceva dentro non passava nessuno tanto non passava nessuno e loro si rendono conto perché si erano indaffarati dentro questo ripostiglio con questa grande vetrata vedono che fuori dalla vetrata nel centro del salone c'è sta nascosto nascosto un mostricino verde che sta a guardare tutto quello che fanno loro il negrone esce il negrone esce di corsa cerca di acchiappare il mostricino verde ma questo gli scivola via dalle mani zompa fuori dalle finestre della White House si infratta lì in un cespuglio dalla White House e si vede lì un un grande chiarore e poi con un oggetto un oggetto misterioso che sparisce all'infinito così in un batter d'occhio e so quattro perché poi il cameriere e la cameriera dei colore e ne hanno parlato pure con Barack Obama e Presidente degli Stati Uniti dove qua c'è un tricino verde vicido proprio vicido che scivoloso che scivola via e ovviamente con Barack Obama e con sua moglie la Marielle Michelle sono andati alla stazione dei Roccari dei Carabinieri della gendarmeria di Stato e hanno esporto denuncia e poi noi stavamo sempre appresso stavamo sempre appresso a queste operazioni qua a questo punto abbiamo abbiamo raccolto perché tra l'altro non ve le posso raccontare tutte adesso perché sennò voi chiudereste la radio non mi ascoltereste più è tanto un'infinità di questi episodi per cui ne abbiamo parlato qualcosa col Presidente della Repubblica e abbiamo convenuto che sugli alieni c'era l'orribile verità l'orribile verità e che purtroppo si doveva trattare da una razza dei guardoni e si vede che che l'assù dove abitano loro non c'hanno niente da guardare e vengono a guardare qua quello che facciamo noi sulla terra o non sono più capaci loro di farle certe cose oppure come noi guardiamo come noi guardiamo sul web guardiamo i filmini porno e così loro vengono sulla terra a guardare quello che facciamo noi i filmini porno li guardiamo come si dice in forma virtuale loro invece li vengono a vedere le cose nostre in forma reale e questa è l'orribile verità si tratta di alieni è certo che che non prendono contatto con noi si vergognano scappano via subito come i guardoni capito si ce l'abbiamo pure noi nella specie umana i guardoni solo che sono pochi guardoni nella specie umana invece là si vede che sono tutti i guardoni e questa l'orribile verità vengono qua vanno dove c'è una brava fanciulla che va a lavare i panni in riva al fiume poveretta che c'ha una veste corta non c'ha le mutandine perché fa caldo stanno lì dietro la sempre a guardare meri che lava i panni sulla riva del fiume oppure stanno lì a guardare dietro la finestra quello che fanno due due sposini sposati da poco sul letto matrimoniale oppure magari vanno a fare quelle cose cerchiano di fare certe cose con i bambini poi salta fuori la nonna che cerca di spaccargli il bastone sulla testa questi omini vicini e verdi oppure addirittura persino alla casa bianca ecco questa è l'orribile verità cari amici questo sono dei guardoni terribile una brutta razza i guardoni sono stanno lì dietro le siepe le siepi sempre a guardare quello che avviene dall'altra parte della siepe capito eccola qua è tutto merito di radio libera dell'oklahoma se voi potete sapere queste cose d'accordo e finalmente abbiamo scoperto la verità una verità orribile ma la verità grazie se avete ascoltato radio libera dell'oklahoma e a tutti voi tanti saluti da serafino massoni